Buongiorno, grazie per essere qui in sala così importante, la sala domona della Camera dei Deputati, nel ciclo Il volume della democrazia. Questa mattina presentiamo un libro di Giovanni Innamorati che qui alla destra, per chi frequenta il Palazzo come giornalista, come politico, come lavoratore, come funzionario, è una delle presenze più costanti del giornalismo parlamentare, non solo per il numero di tempo dal quale esercita questo mestiere, ma per come lo esercita e per il numero di ore quotidiane che dedica davvero tante alla comprensione e quindi alla spiegazione di quel che succede dentro il Parlamento. Abbiamo come relatori di questa presentazione due davvero nomi importanti della vita istituzionale e politica italiana, il Presidente Pierferdinando Casini che attualmente, come diceva prima di cominciare, ha lasciato la Camera per il Senato ma che qui è stato Presidente e la sua è stata una Presidenza che ha segnato decisamente la vita istituzionale di Montecitorio e non solo e c'è il Presidente Chiti che è stato Vicepresidente del Senato e diciamo tante altre cose, Presidente Chiti che è senatore del Partito Democratico, Presidente Casini è stato leader dell'Udcì, adesso è un gruppo che raccoglie quella tradizione aria popolare. Allora, partiamo da questo libro. Io cerco di parlare meno, di far parlare di più i relatori e poi l'autore. Volevo solo dire che il volume è consigliabile a chiunque voglia raccontare, voglia capire e poi magari facendo il giornalista voglia raccontare quello che succede qua dentro, ma non solo. A chi vuole approcciarsi per capire i veri meccanismi della Camera dei Deputati e del Senato, della vita parlamentare, delle istituzioni, perché poi ovviamente il libro sconfina sul colle più alto, il Quirinale, sconfina nel palazzo qui a fianco Palazzo Chigi e in altri ambiti della vita politico-istituzionale. È un felice mix tra manuale di diritto parlamentare, divulgativo, non arido come sono spesso i manuali di diritto parlamentare, e un racconto concreto di quello che succede nei palazzi delle istituzioni e quindi anche della politica. Sicuramente per chiudere questa breve premessa consigliabile anche in questa fase, che è quella che ci porta a votare tra poche settimane per il referendum costituzionale, tra parentesi, non faremo un dibattito su questo perché abbiamo due esponenti del sì. Però, non c'è barcondice come giustamente dice il Presidente Casini, però è sicuramente vero che questo libro aiuta anche a capire, a mio modesto avviso, quello che serve a riformare le istituzioni di questo Paese e quello che forse serve meno, anche alla luce del testo che tra poche settimane gli italiani voteranno. Allora, comincerei dal Presidente Casini, intanto un giudizio complessivo sul volume e poi avrei da chiederle altre cose, ma facciamo dopo. Intanto cominciamo dal libro, Presidente Casini. Allora, innanzitutto grazie a te Alessio, ma devo dire che io sono venuto perché credo che Giovanni Innamorati sia veramente un punto di riferimento qua dentro e questo libro lo dimostra perché è stato un libro veramente in grado per chi ha vissuto gran parte di questi avvenimenti come io ho vissuto di rappresentare la fotografia e la realtà, non solo dei fatti regolamentari eccetera, ma delle dinamiche politiche, è questo che ci interessa. C'ho solo una piccola critica da fare per quanto mi riguarda. Voi sapete che quando uno legge un libro guarda sempre dove è citato eccetera, non è per un fatto... Ma allora io ti vorrei fare una piccola rettifica su un problema che mi riguarda. La faccio subito perché... Aspetta che la trovo. Allora, nell'incontro al Premier si sentì inaspettatamente proporre il nome di Casini, oltre a quello di Giuliano Amato, da sempre il candidato ideale dell'ex Carvalieri. L'operazione perseguita da quest'ultimo poi era sempre la stessa. Mandare sul colle qualcuno che gli concedesse la grazia senza che lui la chiedesse. Berlusconi era ancora convinto che un amato, un dalemiano, per esempio Anna Pinochiaro, lo avrebbe riabilitato una volta seguito al Quirinale e Casini su questo gli aveva dato ampie assicurazioni. Ecco questo è un falso storico, non ho mai dato le assicurazioni su nulla. Il discorso in certi modi è stato pure anche avanzato, ma tu sai che a volte non si devono dire le bugie, si fa fitta di non sentire, ma io di rassicurazioni sul tema modestamente non ne avrei mai date e non ne ho mai date. Ma è un piccolo dettaglio, è una cosa che mi è venuta in mente, è che la seconda edizione la correggi. Per il resto devo dire che qui ci sono contenute le aspettative e le delusioni di corsi politici importanti. Le fasi di transizione, penso al governo Monti, a come ci si arrivate, sono anche state sfatate un pochino alcune ipotetiche congetture, pensiamo a quelle che sono state ingiustamente attribuite a Napolitano, che secondo me è stato un Presidente che si è mosso sempre nell'ambito del più rigoroso rispetto istituzionale. C'è una parte della nostra storia recente e, devo dire, sullo sfondo si prefigura qualcosa che riguarda il nostro futuro. Certo, se noi ricapitoliamo, e nel libro lo si fa molto bene, la storia degli ultimi vent'anni forse obiettivamente dobbiamo convenire che è una storia di occasioni mancate. D'altronde, guardate, io proprio ieri leggevo un dato. Dal 2000 al 2015 il PIL di questo Paese non è cresciuto. A parte la Grecia, il Paese che è cresciuto di meno in questi 15 anni è stato la Francia che è cresciuto del 17%. È il segno che bisognerebbe fare un riesame complessivo di questo percorso e anche un'autocritica forte per entrambi gli schieramenti che si sono succeduti alla guida del Governo. Perché abbiamo evidentemente zavorrato un'apotetica ripresa dell'Italia e oggi è molto ingiusto che noi attribuiamo al presente corso politico la responsabilità di un processo che purtroppo data lunghi anni. In Italia non si viene a investire, si ha paura di un meccanismo burocratico che ti affoga, di un sistema giudiziario che non ti tutela, di una macchina amministrativa che ti paralizza e queste purtroppo sono le grandi questioni italiane. Devo dire anche alcune cose. Io penso che noi non scriviamo sufficientemente la storia di questo Paese e penso che questa biografia non autorizzata abbia un grosso merito. Fissa i dati che hanno caratterizzato il nostro percorso politico degli ultimi tempi. Li fissa in modo molto chiaro anche con la dinamica che è sempre tenuta molto a bada del rapporto ad esempio tra le categorie, le espressioni della società e la politica. Gli attori cosiddetti paralleli dai sindacati alla confindustria che sono non solo sullo sfondo di questo libro ma a volte diventano anche protagoniste. Le ipotesi di riforma elettorale e istituzionale andate deluse, anche questo è un qualcosa che probabilmente potrebbe centrare anche con le analisi che si stanno facendo in questi giorni. Io voglio terminare dicendo solo una cosa, ho una grande paura, guardate, al di là delle posizioni che si possono avere sulla riforma istituzionale, che questo Paese si riveli comunque incapace di qualsiasi autoriforma e questo credo sarebbe molto negativo per la nostra immagine. Al di là, noi non abbiamo bisogno che Obama o soci ci vengano a spiegare come dobbiamo votare. Gli italiani lo sanno, hanno le loro idee, le hanno maturate, ma non c'è dubbio che per l'attesa di cui si è caricato questo referendum nel mondo un eventuale esito negativo verrebbe vista come una sorta di il solito reflusso italiano di un Paese che non riesce a riformarsi e questo credo sarebbe una cosa molto negativa. Naturalmente, io non so quanto ti è costato come tu lavori e sono curioso di sapere se tu lavori analizzando appunti che hai e che ti fai o se hai a freddo ricostruito tutto. Nel secondo ipotesi è stato un lavoro veramente massiccio e sono curioso di capire come li hai realizzati, però da parte mia ti faccio i complimenti. Grazie. Grazie Presidente Casini, sicuramente Giovanni alla fine sarà chiamato a rispondere. Presidente Chiti, per quanto la riguarda ci sono degli aspetti personali come ha fatto il Presidente Casini con questo senso della notizia che dimostra che il libro si è letto davvero tutto come del resto ha fatto lei che non la convincono, che magari vuole in qualche modo integrare, perché poi ovviamente lavoriamo già una seconda edizione, ma l'abbiamo di immaginare anche quello che verrà dopo e su questo vi farò una domanda più tardi. Prego Presidente Chiti. Sì, buongiorno, grazie anche da parte mia per questo invito. Ma intanto sul libro, io ho trovato, mi è colpito questo nel libro in generale, perché è un libro rigoroso, un libro competente, che affronta temi che sono stati cruciali della vita politica parlamentare, ricostruisce passaggi che sono stati delicati e decisivi, le dimissioni di Berlusconi, l'ipotesi del voto anticipato, il governo Monti, l'elezione del Presidente della Repubblica nel 2013 e altri. Ecco, li ricostruisce con serietà, ma al tempo stesso, questo mi sembra che sia davvero apprezzabile, riesce a rendere questi momenti che potrebbero essere noiosissimi, parliamoci chiaro, potrebbero essere proprio cronachistici, come a volte inevitabilmente anche la vita parlamentare, invece riesce a renderli con un racconto che è brillante, che non stanca, ma è coinvolgente. Questo mi pare che sia molto prezioso nel libro. Cioè, non stare su un terreno di pettegolezzo, ma stare su un terreno di competenza e di serietà e rendere però il libro attraente, tant'è che, davvero non in modo formale, io spero che questo libro si diffonda soprattutto tra le giovani generazioni, perché potrebbe essere un modo utile per conoscere dei meccanismi senza essere rigettati indietro. Detto questo, no, io non ho rettifiche da fare, nel senso che con Giovanni Innamorati ci siamo trovati e a volte è capitato di discuterne nei corridoi di Palazzo Madama su posizioni che erano diverse rispetto a passaggi della riforma costituzionale, per stare a questo, ma sono riportati in modo coerente. Io sulla riforma costituzionale avevo da sempre, perché ero stato presidente della regione toscana e della conferenza delle regioni, una posizione che avrebbe spinto per un Bundesrat vero. Riporta giustamente Innamorati che io non feci in tempo neanche a firmarla la proposta Tonini, perché presentata e ritirata fu molto rapida. Questa era una via, perché la via di un Senato in cui ci fossero rappresentanti dei governi regionali e quindi sulla base del voto che in quelle regioni si era avuto per le regioni. Sono da sempre convinto e sono su questo preoccupato come Presidente Casini che non si riesca di nuovo a superare il bicameralismo paritario, perché il bicameralismo paritario ha avuto direttamente una funzione, io penso che storicamente abbia avuto una funzione nel nostro Paese all'inizio, insomma dal 48 per qualche decennio, perché nella contrapposizione che c'era tra gli schieramenti, nelle differenze ideologiche, la Costituzione costruita insieme e il fatto che alcuni percorsi fossero lenti consentiva in alcune circostanze di stemperare quello che poteva portare, come in altri Paesi era stato anche vicino a noi, a scontri ben più duri, ben più drammatici forse. Ora non ha più senso e siamo l'unico Paese europeo, tra i grandi Paesi europei, che ha ancora un bicameralismo paritario. Poi ci sono situazioni diverse, perché appunto in Germania, in tutti questi Paesi la fiducia o l'elezione del Primo Ministro la fa quella che è da noi la Camera dei Deputati. Poi ci sono modi diversi con cui si caratterizza, sia per modo di elezione, sia per competenze, la Seconda Camera, c'è il Bundes, l'ha già detto, in Francia il Senato ha grandi competenze, assai grandi competenze, pur avendo una platea molto più ristretta di elettori. In Spagna c'è un meccanismo misto, per cui a prevalenza sono eletti direttamente da cittadini, ma ci sono anche rappresentanti delle regioni e delle comunità autonome. In Polonia c'è un'elezione diretta, ma non c'è la fiducia. Quindi situazioni, parliamo della Camera dei Lozzi nel Regno Unito. Io pensavo che, non essendo praticabile per ragioni realistiche, il Bundesrat potesse essere una soluzione nel Senato di garanzia. In ogni caso, la soluzione che è passata, diciamo, poi bisogna anche trovare dei punti di equilibrio, perché non fare la riforma e lasciare il bicameralismo paritario è certamente peggiore. Il Senato, se il referendum lo confermerà, avrà competenze importanti su alcuni temi, come la Costituzione o il referendum o l'ordinamento delle regioni e delle autonomie locali. I trattati europei dipendono dalla stessa Unione Europea, ma quelle... e avrà una composizione che è diversa, perché è fatta da un sindaco per regione e da consiglieri regionali che comunque, quando si candideranno, si dovranno candidare, sono scelti da cittadini. Le elezioni non coincideranno più con quelle della Camera, non ci sarà un'unica elezione. Rimango convinto, e sostengo il sì, su questo c'è un punto di differenza che credo permanga con i innamorati, sì, negli emendamenti, nelle battaglie parlamentari si formano proposte più generali e poi emendamenti più specifici. Gli ultimi emendamenti che non avevamo presentato ancora in questa soluzione, dico noi perché almeno in due eravamo io e il senatore Colzini, era che tre leggi, e cioè quella sulla libertà religiosa, quella sull'inizio vita e quella sulla fine vita, rimanessero bicamerali. Io devo dire che sono ancora convinto di questo. E l'obiezione che allora fece Quagliariello, che allora era schierato su un'altra posizione, cioè che non riguardava le regioni in una realtà a fondamento, perché tutte queste materie riguardano anche le regioni. Ma il timore mio principale è quello che su questi... l'Italia avrebbe bisogno di far sistema, la cosa che ora diceva il Presidente Casini, noi abbiamo alcune sfide che chiunque governi ha bisogno di affrontare con grande forza, come si modernizza il Paese, come si costruisce una competitività seria, quali sono i diritti che vanno assicurati ai lavoratori, il diritto al lavoro, eccetera. E qual è il nostro contributo per l'Europa? Allora, rispetto a questi impegni che sono impegni insomma seri che dovremmo comunque assolvere, io penso che dovrebbe esserci questo sforzo di coinvolgimento e non ci debbono essere rischi di contrapposizione, di contrapposizione su temi che sono come questi, che sono temi, insomma, fortemente coinvolgenti. Naturalmente si può risolvere anche in un altro modo, io spero che si risolva in un altro modo. Cioè si potrebbe fare anche un patto tra le forze politiche, su cui non sulla libertà religiosa, ma su grandi temi di inizio e di fine vita, se passerà questo referendum e la riforma costituzionale, su questi temi il Parlamento, prima di fare le leggi e quindi poi provocare eventuali referendum abrogativi, senta un indirizzo dei cittadini per utilizzare i referendum di indirizzo. Finisco dicendo, non so se ci saranno altri, sì, altri, ecco, che Innamorati pone un grande problema che secondo me ha fondamento. Appunto il 2011 non fu complotto, però certamente nel 2011 si è vissuto per la prima volta un rapporto che è un rapporto post costruzione dell'area euro e quindi di cessione consapevole di pezzi di sovranità e questa fu la vicenda anche che ha condizionato questo passaggio. Il problema che pone Innamorati, cioè di come si realizza una partecipazione, diciamo come questo trasferimento di sovranità, viene gestito in modo democratico sia a livello europeo, pienamente democratico, sia a livello dei singoli Paesi, dei singoli Stati nazionali e quindi con quale rapporto tra Parlamenti, questo è un problema vero, è un problema aperto, è un problema che riguarda tutti i Paesi, non solo l'Italia, ma che è giusto tematizzare. Salutiamo intanto il Presidente Pisicchio che ci ha raggiunto, è davvero un piacere. Presidente Casini, volendo immaginare, dicevamo la seconda edizione, un capito in più, come spesso capita con alcuni libri anche di autori, di giornalisti famosi, il tema della legge elettorale, evidentemente legato anche all'esito del 4 dicembre, come però immaginerebbe il capitolo dedicato a questo, il racconto di questa nuova legge elettorale rispetto a quella attualmente in vigore ma con la peculiarità dell'unica legge elettorale votata, mai utilizzata e già pronta al cambiamento? Bisognerebbe che lei mi facesse questa domanda il 5 dicembre, potrei essere preciso, oggi mi sembra che, non lo so, bisogna vedere un pochino come vanno le cose e in base a questo stabilire un... certamente, ecco, mi sembra che qualche modifica della legge elettorale sarebbe auspicabile, soprattutto per quanto riguarda il tema delle alleanze possibili e del ballottaggio. Forse da un certo punto di vista il tema del ballottaggio per me è particolarmente rilevante perché rischia di essere un turno a dispetto più che un turno di costruzione, di costruzione di qualcosa. D'altronde, guardate, è scritto anche nel libro, ma noi siamo sempre più un cortile nel quartiere del mondo. Quello che sta capitando in tutti i processi elettorali, ovunque vi sia, è di una drammatica costanza e questo riguarda le elezioni americane, il referendum in Colombia, il referendum stesso in Ungheria, dove alla fine, a fronte di un grande risultato dei votanti, non c'è stato il 50% dei votanti, per cui il referendum è complessivamente fallito, cioè c'è una grande, una radicale crescita a tutti i livelli delle risposte critiche verso la politica, anche dovuta al fatto che è cambiato il rapporto tra la politica e la gente, cioè la politica tradizionalmente è stata in grado di dare, oggi la politica per la prima volta da dieci anni a questa parte toglie alla gente. Il rapporto tra il cosiddetto potere e la pubblica opinione si è capovolto. Oggi noi abbiamo una situazione che in tutti i paesi del mondo trasforma il vantaggio del governare in handicap nell'aver governato. Fino a 10 anni fa un partito di governo andava alle elezioni avendo una trazione supplementare perché aveva gestito il potere. Oggi chi gestisce il potere riceve una risposta a prioristicamente negativo, comunque l'abbia gestita. E paradossalmente anche chi ha avuto risultati sul terreno dell'economia eccetera, poiché i risultati non sono mai pari alle aspettative della gente e poiché si è inclinato l'equilibrio generazionale. Questo è il punto. Cioè noi siamo la prima generazione in tutta Europa che è destinata a vedere i propri figli stare peggio rispetto al rapporto tra noi e i nostri genitori. L'aspettativa dei nostri genitori era che noi stessimo meglio e noi siamo stati meglio. Oggi il rischio che si paventa e che è la realtà è che i nostri figli non saranno in grado di reggere il livello. D'altronde, scusate, io vi vorrei fare un piccolo esempio. Nel 1950 rispetto al PIL mondiale l'Europa era al 45% del PIL mondiale. Cioè se c'era una torta che certo era più limitata di quella di oggi ma la mangiavamo tutta noi, metà la mangiavano gli europei, oggi noi siamo il 20% del PIL mondiale ed è destinata questa cifra a ridursi. Vorrei dire un'altra cosa sull'Europa perché riguarda l'Italia, non riguarda solo l'Europa ed è echeggiato anche in questo libro. L'altro giorno è stato presentato un sondaggio dell'Istituto degli Affari Internazionali, dell'OIAI, molto interessante nel rapporto tra l'Europa e i cittadini. Naturalmente, come per gli altri cittadini europei, anche gli italiani vedono una crescente anti-europeismo che si sta radicando. A fronte del fatto che il nostro Paese, come si è scritto anche in una parte del libro, era naturaliter filo europeo, oggi noi subiamo l'inclinazione variata che c'è in tutte le parti d'Europa. Ma a fronte di un crescente sfiducia verso l'Europa, alla domanda finale sulle vere questioni che gli europei hanno davanti, la gente risponde dovremmo risolvere questi problemi con una maggiore quota di Europa. Per cui la gente ha una sua serietà, non è che boccia l'ideale europeo, boccia la realizzazione pratica di questo ideale perché vede che questa Europa è attenta ai decimali ma non ridistribuisce gli immigrati e oggi per la gente il tema della sicurezza e dell'immigrazione è la prima questione. Ma non boccia come prospettiva l'Europa perché sanno bene che il controllo delle frontiere, che una maggiore in te passa tutto attraverso un maggior tasso di europeismo. Allora, se questo è vero, questo è parte della grande questione democratica che riguarda il rapporto tra gli elettori e la gente, tra la gente e la politica e naturalmente il tasso di difficoltà è destinato a crescere. Non ci sono cose diverse nei diversi paesi europei, purtroppo o per fortuna la stessa cosa vale per tutto il mondo occidentale. La risposta è nella putinizzazione del potere dell'Occidente. Capisco che da Orban ad altri paesi la tentazione sia quella di ritenere che è necessario immettere nella democrazia un surplus di decisionismo. Però, francamente, io che pure ritengo importante trovare un equilibrio di assetto con la Russia che non ci faccia rimpiangere la guerra fredda perché io non sono nostalgico di quel periodo, prima di ipotizzare che Putin possa essere un modello democratico per l'Occidente o per l'Europa, francamente andrei un attimo cauto. Per cui, il punto vero è che l'Europa, e questo si salda drammaticamente con le questioni italiane, è in una crisi di leadership come mai è stata. E poiché c'è entrato Teodori, voglio dire una cosa. Quanti, dato che se c'è un americano con la K, il Cossiga non c'è più, c'è lui, è rimasto un americano con la K. Bene, è singolare anche questo nostro rapporto con gli Stati Uniti. Vi ricordate? Go home, tornate a casa. Bene, oggi che gli americani sono tornati a casa, perché anche per questioni energetiche il loro rapporto col Mediterraneo è sostanzialmente cambiato, la gente chiede più presenza degli Stati Uniti, perché senza l'assertività di un'amministrazione americana e con un'Europa che non è in grado di svolgere un ruolo nella politica di sicurezza e di difesa comune, noi rischiamo di avere un Mediterraneo in cui i vuoti vengono coperti dalla Russia. Per cui tutti coloro che criticamente chiedevano che ci fosse meno America, oggi capiscono che c'è bisogno di un'amministrazione americana che recuperi anche nel mondo uno spazio di assertività che è mancato con Obama. Obama ha fatto, secondo me, molto bene sul piano della politica interna, ma sul piano della politica estera certamente ha lasciato la legge a desiderare. La fondatezza di quello che dice il Presidente Casini è dimostrata anche dalla ultima copertina del più importante giornale considerato tale del mondo, cioè l'Economist ha fatto la copertina di venerdì scorso putinismo, quindi senza equivoci. Poi parla anche a chi, come sottoscritto, ha avuto la sfortuna di perdere un collega in Georgia, Antonio Russo, quindi sul tema delle libertà non concesse in Russia anche ai giornalisti, mi trova sensibilissimo per l'anofimismo. Presidente Chiti, a proposito di quello che diceva il Presidente Casini sull'Unione Europea, parliamo nei giorni della famosa lettera che alla fine, dopo tanta attesa, è arrivata. Nel libro si fa anche un corposo e analitico capitolo dedicato proprio alla disciplina dei rigidi bilancio. Siamo, e la materia è tendenzialmente considerata aria, in realtà è carne viva, e in questo periodo ci troveremo di fronte, dopo il referendum, ad un incrocio che Casini direbbe aspettiamo il 5 per giudicarlo, però proviamo a capirlo anche un po' prima, perché il giorno dopo il referendum arriva in teoria in Aula al Senato una legge di bilancio che rischia di trovare un Senato particolarmente caldo, sia che vinca il sì, ma soprattutto nel caso contrario. Come la mettiamo? Lei con la sua lunga esperienza di Vice Presidente anche dell'Aula di Palazzo Madama, volendo immaginare la trattazione di questo argomento rivolta con i effettori a quel giorno, al 5-6 dicembre, che pensa? Che succederà? Sarei più tranquillo di parlare della legge elettorale, è difficile davvero, perché intanto bisogna vedere se la Camera effettivamente manderà il 27 al Senato, quindi entro la fine del mese di novembre, manderà al Senato la legge di bilancio, questa è la prima questione, nel senso che anche la Camera ha questa interlocuzione, ovviamente come tutti noi, con la Commissione dell'Unione Europea, alla quale ora ci sarà la lettera di risposta del Governo, poi però il pronunciamento più a fondo sarà il 5, quindi anche loro dopo il referendum. Lo scorso anno è stata seguita una prassi che è stata utile, cioè non soltanto ci sono state le audizioni comuni, questo ci sono sempre il lavoro comune degli uffici, ma è stato fatto a livello almeno della maggioranza di Governo una suddivisione di compiti. La Camera affrontava e modificava o confermava alcuni aspetti di cui il Senato avrebbe preso atto e viceversa il Senato. Non so se anche quest'anno si ripeterà. Il referendum ovviamente influenzerà molto della vita politica, l'esito del referendum e penso influenzerà molto anche il tipo di dibattito che si potrà svolgere alla Camera, al Senato, questioni del Governo, eccetera. Io sono preoccupato su un punto come quello che è stato già detto, cioè il problema è se qualche cambiamento di quelli che da 30 anni si dicono tutti, per tutti il superamento del bicameralismo paritario si riesce a portare all'esito, al traguardo oppure no. Questo avrà un peso non da poco. Però vorrei dire che il libro di Innamorati ci consegna dei problemi che sono molto seri al di là di questo, cioè ci consegna i problemi irrisolti di questa che chiamiamo seconda fase di vita della Repubblica. Seconda Repubblica è un po' difficile visto quello che è costruito, perché i problemi irrisolti sono naturalmente quelli che il libro dice. L'interrogativo è chiedersi perché sono irrisolti questi problemi e che cosa possiamo fare per risolverli. Io penso che sia mancata una reciproca legittimazione tra gli schieramenti politici. Questo è un primo punto che è arrivato a dei momenti anche forti, reciproci, ma è arrivato anche nei momenti forti. Tra il 2006 e il 2008, che ho vissuto direttamente e con qualche tensione ovviamente, come giustamente dice il libro, non c'erano soltanto i due o tre senatori di maggioranza al Senato o le azioni per spostarli, ma c'era la contestazione che in Italia non si era mai realizzata, dell'esito di un risultato politico. Poi c'è stato, e c'è, io sono d'accordo col libro, questo è un problema che esiste, nonché al passato, una debolezza del centro-sinistra nel fare conti con i movimenti della sinistra radicale. Il libro ce lo consegna, io questo aspetto lo condivido. C'è... Non è aggettivo, non sostantivo. No, 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 certo. Come è nel libro. Come è scritto nel libro e come si interpreta nel libro. Il secondo aspetto è che c'è, e questo a me preoccupa, e poi l'ultima cosa di considerazione che voglio fare, anche una situazione inedita del centro-destra rispetto ad altri paesi europei, perché qui noi, certo non è la mia parte, ma ce n'è bisogno in una democrazia. Avremmo bisogno di una destra democratica e repubblicana, che sia egemone, e invece rischiamo oggi che ci sia un'egemonia sulla destra, non una differenziazione, non i repubblicani francesi e la Lepin, e così via in tutti i paesi, ma che ci sia invece su una parte della destra, che è molto consistente, un'egemonia della Lega di Salvini, che è una Lega lepenista. E infine, allora l'ultima considerazione, io penso che l'Europa sia centrale e che l'Europa sarà centrale, e quindi è bene dirlo consapevolmente, anche per le alleanze future. Cioè penso che il campo delle alleanze, che possa fare una destra democratica e repubblicana, e il Partito Democratico, in quanto forza principale del centro-sinistra, dovrà, nell'interesse del Paese, avere orizzonti circoscritti e limitati da quelli che sono l'atteggiamento nei confronti dell'Europa. Perché è vero che l'Europa, non solo l'Unione europea, l'Europa è in difficoltà e in crisi. Dal punto di vista demografico incide meno nel mondo. Dal punto di vista produttivo incide meno nel mondo. Nel 2030 nessun Paese europeo sarebbe nel G20. Quindi tutte le critiche che noi facciamo all'Unione europea, ragione il Presidente Mattarella da questo punto di vista, devono essere critiche. Quando io dico l'Europa non risolve il problema degli immigrati, è vero, ma devo aggiungere o comunque pensare che l'Unione europea non è capace di risolvere il problema degli immigrati e deve risolverlo e deve farlo. Perché è impossibile pensare che invece questo si risolva ritornando agli Stati nazionali. Questa è una illusione catastrofica che non porta a niente. Allora se questo è il punto, allora noi bisogna che il campo delle alleanze sia affrontato laddove si costruiscano alleanze tra forze che anche a livello europeo condividono e hanno in mente obiettivi per rendere l'Europa in alcuni campi, politica estera di sicurezza eccetera, una vera democrazia sovranazionale. Infine ha ragioni innamorati su un altro punto, che la riforma non risolve, ma che se la riforma non passa rischia anche di non essere affrontato. Per carità non si poteva porre a più uno, già ce ne sono tanti, ma insomma c'è un problema irrisolto che riguarda la forma governo. È vero, è irrisolto. Allora se si vuole un governo parlamentare che abbia una sua solidità, al di là delle leggi elettorali, il punto decisivo è la sfiducia costruttiva, perché così reggono nell'Europa del 2016 i governi che sono parlamentari. Altrimenti è un'altra scelta. Io sono per questa, però è un problema che non è stato risolto. Presidente, prima di lasciare la parola a Giovanni Innamorati, però visto che il Presidente Chiti ha parlato del campo del centrodestra, coincidenza tra famiglie politiche europee e quelle italiane, ma anche condivisione. In questo momento si può considerare il campo che sostiene, lo schieramento che sostiene il governo, in parte un'anomalia perché ha componenti del PPE e del PSE, però è vero anche che c'è un'altra anomalia che forse è più forte e questo comporta, cioè che l'alternativa non è più necessariamente tra PPE e PSE, tra famiglia socialista e famiglia popolare, ma c'è l'elemento populista che è molto forte e quindi questo è uno schema che verrà superato oppure... Guarda, io ti dico subito quello che penso, lo sapete, però anche amici carissimi come Monaco dovranno... Dovranno, diciamo, con sofferenza, prendere atto che non è un caso se nella patria del bipolarismo americano la famiglia Bush vota la Clinton. Basta, c'è un mondo dietro. Cioè, anche, diciamo così, magari dolorosamente, però se l'alternativa ha qualcosa che magari è anche lontano da me, è Grillo, io francamente faccio fatica a scegliere qualche cos'altro, per cui credo che lo schema dei popolari e dei socialisti in Europa sia saltato e sia saltato perché è saltato nei fatti, è saltato numericamente, perché non è più... Guardate cosa succede in Germania. In Germania, inevitabilmente, noi non potremo avere altro che un governo di coalizione. E parliamo della Germania, non è che parliamo dell'Italia o della Spagna. E in Spagna, dove non hanno realizzato un governo di coalizione, ma dove i socialisti alla fine, stremati, sono obbligati a dare i voti a Racoi, il governo andrà alle elezioni perché non riuscirà a governare questo governo qui. Alla seconda, terza volta che gli metteranno un veto, prenderà lo spunto per andare alle elezioni. Allora, io non so quale sarà l'Italia, perché io non sono un giovane politico, spero che i nostri successori saranno così bravi, da identificare. Ma oggi il tema non è più questo. Oggi lo scontro non è più come tradizionalmente è stato anche in questi vent'anni tra un centro-destra che poi era più destra che centro e un centro-sinistra che in realtà poi è stato centro-sinistra, abbastanza obiettivamente. Questo bisogna riconoscerlo. Vi devo dire anche la verità. Centro-destra che è stato più che altro l'elemento di confusione, è stato un tasso alto, perché non è che c'era un'organicità di divisione, di destra, c'era un certo approssimazione. Però secondo me questo è il problema. Ma non è il problema che poniamo noi, è il problema che viene posto a tutti i livelli. Vi vorrei dire che anche nella confusione della vicenda brasiliana si può leggere pure questo. L'altro giorno mi dicevano perché timer è di centro-destra, ma ho detto scusate ma timer è stato nominato vicepresidente dalla DIM, cioè che era all'estrema sinistra. Allora evidentemente anche lì sono saltati gli schemi. Io non dico che sia un fatto positivo, è costato che è così. Grazie. Allora Giovanni Innamorati, autore del libro, citato più volte. Innanzitutto un ringraziamento. Io sono lusingato per la disponibilità del Presidente Casini e del Presidente Chiti, tanto più perché appunto ci stanno dei passaggi nel libro in cui hanno criticato le loro posizioni, per cui insomma la mia gratitudine è maggiore. E anche ad Alessio Falconio che prima di essere direttore di Radio Radicale, la radio che io sento maggiormente, è stato un bravissimo giornalista parlamentare per cui ho pensato a lui, per il moderatore per questo dibattito. Tolgo una curiosità al Presidente Casini, io ho una memoria pazzesca e mi sono avvalso di due strumenti. L'archivio elettronico dell'ANSA dove sono andato a ricostruire giorno per giorno determinati passaggi e poi naturalmente gli atti parlamentari per fare una cosa ben fatta. rispetto alle posizioni del Presidente Chiti del 2014 ho cambiato idea e ora ritengo anche io che affidare i temi eticamente sensibili a un bicameralismo non sarebbe male e prendo spunto come è avvenuto il passaggio parlamentare della legge sulle unioni civili. Cioè sia la Camera che il Senato c'era la stessa dinamica parlamentare, di forte contrapposizione, alla fine sono state messe due fiduce e si è chiuso là. Forse con due Camere diversificate perché nel Senato ci sarà ora un Senato delle Regioni. La democrazia non deve solo decidere, conta anche come arriva la decisione, conta la qualità del dibattito. Forse con un Senato composto da soggetti diversi rispetto alla Camera e forse su determinati temi ci potrebbe essere un dibattito diverso che potrebbe magari smussare certe contrapposizioni fra maggioranza e opposizione, inserire degli elementi riflessivi. Per cui ecco, a due anni di distanza ho cambiato io idea. Amara battuta anche perché quando i testi poi non si vogliono portare in aula come quello sul testamento biologico non serve appunto, non basta nemmeno ricorrere a questo. Grazie davvero a Giovanni Innamorati, grazie al Presidente Casini e al Presidente Chiti. Il libro si chiama Il Parlamento, Biografia non autorizzata. Avete sentito e capito perché bisogna comprarlo e leggerlo. Grazie. 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 è uscito da qualche mese, è uscito a maggio, in una situazione forse un po' diversa, perché per la verità Barack Obama come Presidente degli Stati Uniti è forse stato il Presidente americano che ha avuto in Italia le maggiori critiche, almeno dai tempi, dal dopoguerra direi, nessun Presidente americano è stato così criticato da un ventaglio abbastanza ampio di impostazioni culturali e i suoi difensori sono stati anche abbastanza timidi. Questo libro usciva in totale controtendenza, anche il titolo è forse segno di questa valorizzazione accentuata proprio per significarne la logica anticonformista, Obama il grande e in realtà oggi dall'uscita del libro a stamattina possiamo dire che in qualche modo questo libro ha visto non trionfare, ma sicuramente molto più considerate le sue ragioni, per un motivo molto contingente che presumo interessi l'autore del libro che è un americanista di professione accademica diciamo e che interessa però anche così un po' tutti, cioè le elezioni americane. Il confronto fra il doppio mandato di Obama e gli attuali candidati e l'attuale qualità del dibattito che contraddistingue questa elezione presidenziale ha inevitabilmente condotto a, non dico un ripensamento, ma insomma a una considerazione più logica, più aderente ai fatti della presidenza, della lunga presidenza di Obama. Io direi quindi che possiamo cominciare proprio da questo passaggio, come la presidenza di Obama finisca, come si può dire, in crescita, dal punto di vista anche dei sondaggi qualcosa rileva questo, il peso del Presidente e anche della First Lady nella campagna presidenziale si sente molto perché è evidente che la candidata democratica ha bisogno di un supporto e quello più forte viene proprio dalla coppia presidenziale ancora alla Casa Bianca. Quindi c'è questo intreccio con l'attualità ma io chiederei all'autore di cominciare proprio dalla figura di Obama come il Presidente, che così ce l'ha presentato la stampa per lungo tempo, che in realtà ha avuto un ruolo quasi notaio di una minore forza e minore presenza sulla scena mondiale degli Stati Uniti. È proprio così. Innanzitutto perché questo fenomeno di un consenso e di un favore da parte soprattutto del pubblico internazionale ma anche di quello interno che è oscillato, ma che è oscillato andando progressivamente verso una ripresa perché quello che è il trend del consenso Obama sul piano interno è stato un trend del tutto diverso e diciamo di tendenza opposta a quella che normalmente i Presidenti americani hanno. Perché normalmente i Presidenti americani hanno sempre un minore favore nella parte terminale dei loro mandati. Cioè non parliamo soltanto di Bush che era sceso al 30% ma anche di tutti gli altri, se guardiamo la linea dei Presidenti precedenti, il consenso è andato a diminuire rispetto, mentre il massimo nel momento dell'elezione il minimo al momento dell'uscita dal mandato. Mentre per Obama c'è stato il fenomeno che negli ultimi sei mesi il favore è andato ricrescendo, superando il 50%, cioè attestandosi intorno tra il 50 e il 55%. Perché questo? Perché in realtà ci si è accorti che questa Presidenza Obama, che era una Presidenza che è stata considerata dai suoi, da quelli che l'hanno visto favorevolmente, troppo moderata, incapace di fare tutte le cose che ci si è aspettavano, in realtà ha dato al Paese quello slancio in politica interna e in politica internazionale che era difficilmente realizzabile date le condizioni avverse sia a livello istituzionale che a livello di opinione pubblica. Perché Obama è stato per un certo periodo considerato un Presidente non efficace? È stato considerato un Presidente non efficace per una ragione semplice, perché nel momento in cui è stato eletto si sono appuntati su di lui una serie di aspettative, come sempre si appuntano su un Presidente, che erano superiori alle reali possibilità di essere realizzate. E perché erano superiori alla possibilità di essere realizzate? Perché in realtà il contesto in cui si è trovato ad operare Obama era un contesto molto negativo, sia dal punto di vista dell'opinione pubblica, sia dal punto di vista istituzionale. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, ad esempio prendiamo il caso più grosso, quando lui è riuscito a fare l'Obamacare, cioè l'estensione dell'assistenza sanitaria a una quindicina di milioni di americani che non l'avevano, la cosa è stata vista in maniera molto negativa dalla maggior parte degli americani, perché non solo i repubblicani ma anche una parte dei democratici erano contrari al fatto che lo Stato si occupasse della salute dei singoli cittadini. Ma Obama ci è riuscito nonostante tutto e ci è riuscito laddove i Presidenti americani fin dal 1946 non erano riusciti ad assicurare l'estensione dell'assistenza sanitaria a una vasta gamma di persone della fascia bassa della popolazione. E in politica estera certamente il primo mandato di Obama è stato un mandato che è stato contrassegnato da molte oscillazioni, perché ancora Obama non aveva una linea e perché le crisi che ha dovuto affrontare dalla crisi libica, quella siriana e in generale del Medio Oriente erano in realtà delle crisi abbastanza nuove in termini nella linea del Medio Oriente, cioè il terrorismo, l'atteggiamento della Siria, quello della caduta di Gheeddafi, eccetera, erano tutte quante situazioni rispetto alle quali Obama è stato molto oscillante. È stato molto oscillante fino a quando nel secondo mandato in realtà ha elaborato un tipo di, chiamiamola così, filosofia, linea strategica internazionale centrata su un punto molto semplice, cioè il punto nessuna, no boots on the ground, nessuna truppa americana sul terreno, non è che gli Stati Uniti si ritirano come superpotenza dall'esercitare la leadership laddove è necessario nelle crisi internazionali, ma il contributo che possono dare è soltanto un contributo di carattere di intelligence, di istruzione dei locali e di sostegno dall'esterno e non sul campo. In base a una considerazione che a mio avviso non è una considerazione dovuta al ritiro all'isolazionismo. È una considerazione diversa. che gli equilibri internazionali attuali degli anni 2000 non sono quelli né del mondo bipolare né del mondo unipolare a cui credeva Bush. La situazione internazionale è una situazione nella quale si va delineando, anche se non c'è ancora nessun equilibrio, in cui il multipolarismo è quello che già regna ma d'ora in poi regnerà. Obama non ha fatto altro che prendere atto di questa situazione, prendere atto della situazione in cui gli alleati storici degli Stati Uniti, dalla Turchia all'Arabia Saudita, se ne vanno per conto loro e quindi gli Stati Uniti non sono più al centro di una costellazione di alleati. Forse lo sono ancora sullo scacchiere del Pacifico ma non lo sono più certamente nel Mediterraneo e nel Medio Oriente e direi neppure molto in Europa. Allora Obama secondo me ha preso atto di questa situazione ed ha enunciato con l'intervista, molto esplicitamente con l'intervista che ha fatto l'Atlantica, la rivista Atlantica in primavera, una linea che è riassunta in un concetto semplice. Il concetto semplice è l'America non può più essere il gendarme del mondo. L'America non può più risolvere con la forza militare le crisi in giro per il mondo. Certo, questo è qualcosa di assolutamente nuovo, di assolutamente di rottura rispetto al passato, rispetto al passato in cui la superpotenza, la responsabilità della superpotenza in equilibrio del passato, volevano, comportavano, implicavano che gli Stati Uniti intervenissero ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti non possono più intervenire. Certamente non possono più intervenire sui teatri medio orientale ed europeo. possono fiancheggiare coloro i quali stanno dalla propria parte. La teoria, anche questa è explicitamente enunciata, nel campo islamico il terrorismo sunnita deve essere sconfitto, affrontato dagli stessi sunniti. Non può essere affrontato e sconfitto dagli americani. Lo ha detto esplicitamente. Perché se noi scendessimo sul campo, affrontassimo i terroristi islamisti, che cosa accadrebbe? Accadrebbe quello che è accaduto anche in Iraq. Cioè noi andiamo lì con la nostra forza militare, li sconfiggiamo, ma essendo una frontiera in cui si sconfiggono e buonanotte, quelli si ritirano, noi piantiamo le nostre basi e tutto intorno si scatena la guerriglia e quindi è molto peggio di prima. Quindi quello che possiamo fare? Noi dobbiamo sostenere le forze che sconfiggono il terrorismo, ma devono essere le stesse forze islamiche. Perché il problema non è di sconfiggere il terrorismo, ma è di preparare quello che c'è dopo, preparare delle soluzioni possibili per il dopoterrorismo. E infatti l'esperienza libica, in cui Obama ha detto io sono stato tirato per i capelli dalla irresponsabilità francese e inglese, i quali sono andati lì, hanno buttato fuori Gheddafi e poi hanno lasciato la situazione come l'hanno lasciata. Io non ci sarei voluto andare, però francesi e inglesi hanno fatto questa cosa, se ne sono andati e poi il segretario di Stato ha spinto per intervenire. Quindi Obama, in mezzo a queste sue oscillazioni in politica estera, non dimentichiamo che appena il primo anno dopo l'elezione, lui andò al Cairo, andò al Cairo per tendere la mano agli islamici e quella mano agli islamici non la raccolsero. E poi dopo di che c'è stato tutto quello che c'è stato. Quindi Obama ha vissuto un periodo in cui non è cambiato l'atteggiamento americano, è cambiata la situazione nel mondo, negli scacchieri di crisi. Obama pian piano ha elaborato e ha preso atto di una situazione che era cambiata, cambiata nel medioevoerente, cambiata nel Mediterraneo, è cambiata nella stessa roba. Poi si dirà, come giustamente si dice, a sto punto il vuoto lasciato dall'America è un vuoto che viene riempito dalla Russia, la quale si espande nel Mediterraneo, dall'Ucraina fino alla Siria. Ma c'era proprio ieri un'intervista del capo dei servizi americani e dice che cosa accadrebbe se un aereo americano fosse buttato giù dai russi in Siria. Che succede? Scateniamo la guerra? Quindi io credo che la prudenza di Obama, l'elaborazione di una linea abbozzata per cui la leadership americana non deve essere più esercitata attraverso la forza militare ma attraverso la diplomazia e la trattativa. Come si è visto con l'Iran e con Cuba. Perché l'Iran e Cuba sono due, non solo due atti importanti ma anche due atti significativi. Perché con l'Iran è stato abbandonato l'atteggiamento muscolare per un atteggiamento di trattativa. così con la Cuba con cui è stato preso atto che non aveva più senso finita da vent'anni la guerra fredda mantenere un conflitto, una situazione conflittuale con Cuba. La visita a Hiroshima altra cosa con grande crata e simbolica. Io credo che tutto questo ha rappresentato un abbozzo di linea così come un abbozzo di linea ha rappresentato all'interno la questione dell'assistenza pubblica estesa con l'Obama Care su due questioni che il prossimo Presidente degli Stati Uniti dovrà affrontare. La questione interna è quella della disuguaglianza tra ricchi e poveri e dell'impoverimento della classe media che è la questione che è aperta perché è vero che la crisi da un punto di vista macroscopico la crisi del 2008 è stata superata ma è stata superata in larghi termini è stata superata perché la disoccupazione è scesa dal 10 al 5% perché l'economia è riavviata però il fenomeno che invece è lì sotto la società americana e che anche una delle ragioni per le quali in queste elezioni ci sono stati fenomeni che ci sono stati da Trump e da Bernie Sanders è che c'è un impoverimento generale della classe media la classe media bianca e dall'altra parte un aumento delle differenze tra la parte ricca che è sempre più ricca e la parte povera questo Obama l'ha preso per il verso dell'assistenza sanitaria che è una delle antiche macchie e l'altro verso è quello la leadership americana nel mondo della potenza più forte militarmente economicamente eccetera come deve essere esercitata da 47 ad oggi da 47 al 2008 è stato esercitato con sempre con gli interventi militari detto più o meno più o meno duri eccetera in futuro questa leadership in un mondo diverso come deve essere esercitata a me pare che Obama abbia aperto questo problema poi vedremo che succederà e allora potremmo provare sono stato troppo lungo ma ho cercato di fare un affresco generale e guarda l'affresco generale poi si può sintetizzare anche abbastanza bene no vediamo se nel tempo che ci resta possiamo provare a fare un gioco di attualizzazione di libro alla luce dei dei noti accadimenti della campagna presidenziale cominciando a parametrare la linea di Obama rispetto a quella vera o presunta dei due candidati alla sua successione per esempio tu già hai fatto un fugace accenno al segretario di Stato che ai tempi della Libia il noto l'affare Benghazi eccetera era Hillary Clinton le differenze di politica nella politica estera fra Obama e Hillary Clinton già si erano notate quando nessuno dei due era presidente perché sulla guerra negli Iraq votarono in modo differente ecco secondo te che cosa distingue Hillary Clinton da Obama e se dovesse essere eletta cosa cambierà e cosa manterrà poi passiamo a tramite ma dopo prima no qui la risposta deve essere rapidissima perché noi non sappiamo mai quello che un cardinale fa quando diventa papa non lo sappiamo ci possono essere sempre delle sorprese tutti tutti dicono secondo l'esperienza del passato che Hillary Clinton ha un atteggiamento più muscolare di quello che ha Obama però proprio in base a quanto dicevo prima una cosa era l'atteggiamento muscolare di dieci anni fa è una cosa un atteggiamento muscolare oggi quindi non so io non so se Hillary Clinton perché il punto di passaggio è inviare spedizioni militari sul terreno o meno quello è il punto di passaggio a me sembra difficile che in questa situazione la Clinton se verrà eletta presidente possa riprendere a fare delle spedizioni come quelle che per un verso o per l'altro ci sono state a Corea al Vietnam all'Afghanistan all'Iraq ai paesi dell'America Latina dell'America Centrale a me sembra molto difficile potrà accentuare lo scontro dimostrativo per esempio con la Russia come già c'è il scontro c'è mandano gli aerei in giro lì da quelle parti mandano siccome i balti ci richiedono dei muscoli i polacchi sono lì pronti a partire con la cavalleria eccetera eccetera probabilmente accenturare queste cose però il punto di passaggio può un condizionamento americano sbarcare da qualche parte e combattere a me sembra molto difficile adesso io vorrei sentire pure Ferdinando che dice quindi non potrà che proseguire nella linea poi tutto potrà accadere tutto potrà accadere perché perché il futuro poi ci sono due incognite che noi non prendiamo mai in considerazione nel delineare gli scenari futuri che li guardiamo sempre con gli occhi del passato beh uno scenario del futuro è la proliferazione e la micro la proliferazione e la microizzazione delle armi nucleari in mano a soggetti non statali e questo credo che diventerà un problema sempre più sempre più grave e in secondo luogo poi ne abbiamo visto già qualche cosa è la guerra cibernetica cioè sono le due dimensioni che prospettano dei parametri diversi per quello che riguardano i conflitti del futuro che non sono conflitti come come quelli del passato eh sì la cyber war è una una cosa di attualità anche in Italia fra l'altro ed è attualissima nella nella battaglia presidenziale perché si combattono a colpi di leaks e di repliche su su quelli ma arrivando a Trump a questo punto più direi che poi fra l'altro viene da solo però aggiungerei questo è quello che distingue Trump da 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 Obama si vede a occhio nudo insomma anche il profano lo capisce perfettamente quello che però caratterizza Trump invece no quello è più interessante cioè capire in fondo un po' il populismo come si chiama adesso ma il qualunquismo era più un aspetto eh della politica europea negli Stati Uniti c'era era diffuso ma restava in ambito locale il telepredicatore il governatore o il sindaco particolarmente è bizzarro ma lì si fermava e invece no adesso la candidatura di Trump ha una tu sei uno di quelli fra l'altro che nel momento anche questa è una tua piccola vittoria almeno da ieri però quando sei uno di quelli che quando a un certo punto un mesetto fa una quindicine giorni fa si è affermato il pensiero che andava da New York Times fino all'ultimo giornale locale europeo che ormai Hillary aveva vinto la partita quello che aveva combinato troppi guai troppe gaff Hillary ormai vinceva a mani basse adesso da un paio di giorni si nota invece una controtendenza perché tutti si accorgono che poi tutto sommato malgrado le gaff malgrado quello che è capace di combinare e di dire Trump regge tutto sommato Hillary la presidenza se la deve ancora sudare e tutto sommato non è detto come tu prudentemente ricordavi anche nei tuoi interventi televisivi o sulla carta stampata e allora ecco Trump oggi che cos'è che rapporto c'ha con il fenomeno europeo cosa c'ha di propriamente americano e quante chance ha di vincere io sono sempre vestito al parallelismo tra le cose europee e le cose americane perché i dati strutturali di base storici culturali antropologici sono talmente diversi talmente diversi che non proprio ieri scrivevo una cosa che apparirà sul domenicale del sole la prossima domenica richiamando lo storico americano Frederick Turner il quale impostò la teoria della frontiera dicendo le istituzioni e le culture europee a contatto con gli Stati Uniti sono completamente trasformate hanno dato vita a una cosa completamente diversa che ormai è incomparabile anche perché arrivando negli Stati Uniti a contatto con una situazione vergine che non ha avuto un anziere regime cosa che del resto era stata già notata da Tocqueville è un anziere regime e l'America della frontiera la frontiera è stata quella che ha caratterizzato l'ospito americano vabbè lasciamo stare queste notazioni storiche io credo che innanzitutto vediamo che cosa succede io ho sempre detto che bisogna essere molto prudenti nelle previsioni perché previsioni dipende molto quanti andranno a votare se andranno a votare sopra il 55% diciamo che è una cifra alta per l'America come hanno votato per Obama perché per Obama hanno votato una volta il 58% una volta il 55% significa che il contributo di quelli che votano meno cioè degli afroamericani e degli ispanici è notevole e questo va a vantaggio della Clinton se vanno a votare meno oltre il 50% la cosa può essere la partita è aperta perché è aperta perché significa che quelli che ho detto prima hanno votato meno e che il nucleo invece che è andato a votare alle primarie per Trump che per la prima volta è andato a votare in maniera superiore a tutte le altre primarie repubblicane del passato perché ha mobilitato delle fasce di bianchi soprattutto della classe media anziana che non si erano mai mobilitati e allora la partita può essere aperta e la partita può essere aperta anche per la presenza dei terzi candidati perché è vero che i terzi candidati non arrivano mai da nessuna parte ma è vero che sono quelli che determinano chi vince lo hanno fatto lo ha fatto Rospero che ha fatto vincere Clinton che altrimenti non avrebbe mai vinto perché ha assorbito una parte del voto repubblicano e lo ha fatto Neider che pure a livello nazionale ha preso meno del 2% che ha fatto vincere Bush perché gli ha tolto quei pochi voti in Florida che hanno causato la sua perdita allora questa volta noi abbiamo una situazione nella quale il 60% degli americani ritengono guardano con sfavore entrambi i candidati è la prima volta che è successo guardano con sfavore tutti e due i candidati lo ricordavamo con Ferdinando l'altra sera quando abbiamo fatto un altro dibattito in più aggiungiamo il New York Times ha pubblicato giorni fa una serie di sondaggi molto dettagliati eccetera in cui si dice che anche che la metà di quelli che dicono che votano Clinton e sono registrati democratici lo fanno malvolentieri allora in una situazione del genere con dei terzi candidati che stanno quello libertario sta al 9-10% il verde sta al 4% come possono influire allora la prudenza non è mai troppa poi c'era un'altra cosa che ah ecco Trump il problema di Trump il successo di Trump la chiave del suo successo non è una chiave economica è anche una chiave economica della disaffezione della della classe media impoverita eccetera eccetera dei lavoratori bianchi ma è soprattutto un fatto antropologico cioè il timore che l'America bianca va sotto nella società americana rispetto all'America dei non bianchi questa è la vera chiave cioè il successo di Trump è un successo la cui chiave non è economica anche economica ma è antropologica per cui l'orgoglio nazionalista in realtà non è l'orgoglio nazionalista l'America è grande deve essere grande e forte ma è i bianchi che sono stati destinati a governare il paradiso in terra fatto dall'America non sono più destinati a fare questa cosa per cui la storia o almeno quello che dicono i suprematisti bianchi la storia li ha destinati Alguan dietro voglio dire io richiamo questa chiave perché secondo me è la chiave che non viene mai detta esplicitamente che però ne raccoglie tante altre certe parole d'ordini facili di Trump fanno appello a questa cosa qui alla paura dei bianchi di essere marginalizzati ed è stata proprio la presidenza di Obama che ha suscitato tutto questo che ha scatenato tutto questo così come ha scatenato la ripresa delle tensioni razziali nei luoghi in cui la classe dirigente locale cioè i capi della polizia e i sindaci appartengono al vecchio ceto dirigente qua si apre un altro capitolo affascinante perché Obama in realtà nei confronti del ceto medio impoverito che tu hai evocato più volte nei tuoi interventi finisce per evocare due aspetti uno è quello forse quello centrale che tu hai definito il fattore antropologico la paura dei bianchi americani di essere alla fine marginati da neri latinos eccetera l'altro aspetto però paradossale e questo comincia con un nero alla presidenza l'effetto simbolico è questo però volevo sottoporti quest'altra questione per quel che si vede dalla comunicazione Obama nelle stesse persone che sicuramente hanno questo tipo di problema ha scatenato anche un altro elemento di diffidenza di segno contrario cioè il fatto che Obama venga ritenuto da diversa parte della stampa americana non certo quella più il New York Times non il Washington Post però non è che tutti leggono quei giornali un po' un algido intellettuale un professore uno che si occupa solo di teoria che si emoziona raramente parla benissimo però è tutto perfetto è proprio un rappresentante di quella classe malgrado il colore della pelle di quella classe che poi in realtà noi possiamo troviamo un'ostilità anche in Italia rispetto a quel tipo di sinistra non è lago scaviano non sono però Obama un po' evoca quel tipo in alcuna in un settore almeno dell'opinione pubblica quindi due cose di segno e quale il contrario eppure è andata come è andata con i sondaggi questo questo fa parte del fatto che che anche anche in questo sito c'è un parallelismo anche negli Stati Uniti analogamente all'Europa c'è una rivolta contro l'establishment che poi negli Stati Uniti acquista anche una dimensione storica diversa nel senso che è la dimensione storica per la quale c'è stato sempre un antagonismo fra la dimensione federale cioè Washington e la dimensione statale ed anche lì perché poi soprattutto i difensori dei diritti degli stati sono sempre identificati come difensori dei diritti degli individui contro contro il grande potere contro il grande potere contro che sia il troppo governo o che sia la troppa finanza o che sia il troppo sindacato c'è questa tradizionale reazione del dell'accentramento di potere identificato appunto con quelli di di Washington e via di seguito e in una certa misura Trump rispetto alla Clinton ma anche rispetto a Obama come nella stessa linea viene identificato come scusate prego chiamare fra un quarto d'ora eh la scuola è quella quindi nel nell'atteggiamento però nonostante tutto questo lo dicevi lo dicevi tu prima nonostante tutta tutta questa rivolta anti establishment anti Washington anti ingerenza del grande potere federale e via di seguito che poi è una linea antica nonostante tutto questo che riguarda soprattutto la Clinton oggi riguarda molto meno riguarda molto meno Obama perché riguarda molto meno Obama perché alcuni suoi provvedimenti presi con grande difficoltà il provvedimento della sanità il provvedimento della delle paghe uguali a uomini e donne il problema dell'elevazione del salario minimo il problema della gratuità dell'istruzione superiore nei college statali sono tutti provvedimenti lui ha fatto una quindicina dei provvedimenti che sono all'insegna del welfare chiamiamolo così all'insegna del welfare più o meno sono settoriali all'insegna del welfare tutti questi provvedimenti sono provvedimenti che lui ha preso molte volte forzando la mano ha preso come governo federale e sono tutti provvedimenti che sulla testa dei governi statali che cosa significa questo significa una cosa bisogna entrare dentro ai meccanismi dell'amministrazione americana una serie di questi provvedimenti riguardano gli stati non possono non riguardano il governo federale e c'è stata sempre una polemica degli stati nel governo federale che si intrometteva nelle questioni degli stati per quello che riguarda la politica interna o la politica sociale che è materia dei governi statali ma il governo federale e questa è stata una cosa tipica di alcuni presidenti democratici in particolare il grande giocoliere di tutto questo è stato Johnson il governo federale dice guardate io vi do del danaro per l'assistenza sanitaria o per i college gratuiti o per i poveri e via di seguito se voi vi do un trasferimento allo Stato se voi applicate questa legge federale se non applicate questa legge federale io non vi do niente ed è in generale diciamo il marchigegno attraverso cui si espande il potere federale sul potere degli stati che in genere reagiscono i quali stati in genere sono riluttanti però quando c'è un problema del danaro via di seguito così come lui ha esteso il potere federale su che cosa per esempio sui matrimoni omosessuali ma sul matrimonio omosessuali chi è che ha esteso il potere lo ha esteso la corte suprema su iniziativa del governo federale contro gli stati che hanno messo nelle costituzioni statali il divieto del matrimonio fra gli stessi sessi così come tutta una serie di altre cose che riguardano l'istruzione per esempio il darwinismo eccetera eccetera insomma c'è sempre un braccio di ferro quello in sintesi Obama ha usato molto i decreti esecutivi che sono i decreti esecutivi i decreti esecutivi sono una cosa per cui il presidente non passa attraverso il congresso o almeno ci va dopo e via di seguito eccetera ed è una delle maniere attraverso cui lui ha sorpassato un congresso ostile che gli ha bloccato tutto quasi o comunque gli ha bloccato tutto quasi i provvedimenti di welfare e altri provvedimenti di altri atti di politica estra attraverso i poteri esecutivi che in passato sono serviti per esempio i casi famosi quelli di Johnson o anche quelli di Nixon eccetera per fare la guerra per fare la guerra per fare la guerra senza l'autorizzazione del senato per fare la guerra cosa che invece perché il comandante in capo però deve avere l'autorizzazione per fare la guerra dell'autorizzazione del senato in tutto il gioco dei pesi e dei contrapesi e dei limiti eccetera quando un presidente si trova nel governo diviso come nella maggior parte dei casi un congresso stile e nel caso un congresso stile molto radicalizzato come è stato quello in questi otto anni e soprattutto negli ultimi quattro anni eccetera allora usa questi altri strumenti forzando la cosa ad esempio che non gli è riuscita è stata la conferma della nomina del giudice della Corte Suprema siccome la Corte Suprema è morto Antonio Niscalia erano 4 a 5 che sono ridiventati 4 a 4 e il giudice che viene nominato cambia tutto quanto l'indirizzo della Corte Suprema il che significa la Corte Suprema c'è sostanzialmente dei poteri legislativi che significa tanto per intenderci alcune cose controllo delle armi interpretazione del secondo emendamento tutti i problemi etici matrimoni omosessuali insegnamento eccetera eccetera tutte cose che vanno avanti con consentenza è estensione non limite al finanziamento perché è la cosa fondamentale delle elezioni in cui la Corte Suprema ha aperto che il finanziamento non ha limiti e via di seguito quindi che influisce sul meccanismo elettorale allora il problema del rapporto fra Corte quella solita cosa che io vado ripetendo guardate i poteri del Presidente sono fortissimi ma sono fortissimi i contrappesi del potere del Presidente della Corte Suprema del Congresso e quindi se non guardiamo le cose tutti insieme non riusciamo mai a capire come funziona la politica americana in questo caso che è successo che Obama ha nominato un Presidente diciamo di indirizzo liberal democratico e che il Congresso non l'ha ratificato si è rifiutato proprio di discuterne Massimo però adesso e qui così chiudiamo con una cosa che se no per completezza perché questa storia del giudice mancante della Corte Suprema è interessante perché adesso da un punto di vista perché adesso i repubblicani specialmente nelle settimane scorse quando i sondaggi per Hillary Clinton erano diciamo così tumultuosamente avanti stavano riaccarezzando cioè stavano ritornando sui loro passi perché si facevano un conto molto semplice in fondo Obama in situazione di fine mandato e quindi di in qualche modo di difficoltà nel fare un passaggio del genere ci aveva proposto sì un democratico ma un progressista ma insomma un moderato adesso se vince Hillary succede davvero quello che dicevi tu cioè cambia dopo un numero di anni molto ampio fra l'altro la giurisprudenza della Corte perché morto Schialia se la rimette un ultra progressista cambia tutto quindi i repubblicani stanno pensando ma quasi quasi si potrebbe accedere in estremis e salviamo un po' il salvabile però io volevo chiederti questo adesso l'altra caratteristica della fine mandato di Obama e la decisione poi di trovare un candidato antagonista ha mostrato un'altra cosa molto rilevante cioè il serio la seria crisi del partito repubblicano la candidatura di Trump è il segnale di questo ma c'erano stati i segnali precedenti di una loro divisione profonda che non l'incapacità di trovarsi un leader adeguato alla bisogna eccetera tanto che qualcuno dice il tema cominciava ad andare di moda dice ma in fondo questa è una delle elezioni presidenziali dove potrebbe cambiare qualche cosa nel famoso sistema dei partiti americani ogni tanto qualcosa cambia ecco siamo a questo siamo a una nuove formazioni una divisione dei repubblicani può succedere? allora io qui rispondo con una maniera molto semplice e schematica il bipartitismo è ferreo perché il bipartitismo è figlio del sistema elettorale che dalla ultima contea fino a presidente è uno contro uno nominale e quindi il bipartitismo è la matrice del del sistema politico dei partiti del sistema dei partiti no il sistema elettorale è la matrice del sistema dei partiti e quindi è quello non cambia niente quello che cambia ed è cambiato nel corso della storia è la sostanza dei due partiti e sicuramente in queste elezioni i due partiti sono avviati a cambiare così come sono cambiati in passato faccio sempre l'esempio che nel 1932 il sistema dei partiti è cambiato radicalmente perché il partito democratico che era il partito del sud e dell'ovest è diventato un altro partito perché è diventato il partito in cui c'erano quattro componenti i sindacati gli etnici i liberal che prima erano tendenzialmente tutti tutti i repubblicani e i dixicrat che invece erano il nucleo grosso del sud e quindi il partito democratico del 1932 non è quello che era uscito dalla guerra civile che aveva dominato gli ultimi vent'anni dell'ottocento i primi vent'anni del novecento nel 1968 72 avviene un'altra cosa un altro cambiamento sostanziale perché il partito repubblicano che non 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 batteva paglia non batteva chiodo al sud che con Johnson era tutto democratico o grosso modo tutto il sud diventa repubblicano con Nixon e quindi cambiano i partiti e anche questa volta cambieranno i partiti all'interno se Trump perde è difficile che ci siano dei cambiamenti sostanziali nel partito repubblicano perché lo vecchio establishment riprenderà in mano le cose però dovranno prendere atto però il partito repubblicano in questi ultimi otto anni è già cambiato molto perché al congresso ci hanno chi ha la leadership al congresso sono i tip artis no è cambiato già voglio dire i tip artis vent'anni fa hanno presentato dei candidati a governatore che hanno perso tutti quindi vincevano i congressi ma perdevano le elezioni nell'opposizione radicale a Obama i tip artis che hanno ho capito va bene mi pare che siamo arrivati alla fine del tempo a noi assegnato quindi non resta che ringraziare i partecipanti che sono spero ma credo che l'autore sia stato esaustivo diciamo così grazie ringrazio grazie 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 buongiorno dunque siamo autogestiti ci hanno detto quindi con questa cosa di democrazia iniziamo questo nostro incontro con una cara amica per alcuni fra il pubblico per altri solo una scrittrice molto nota della quale oggi presentiamo il giudice delle donne un libro che era lì ecco pubblicato dalla casa editrice Fassinelli un libro di cui la prima cosa che va detta è che è un romanzo e che è molto importante secondo me sono stata molto contenta di essere stata invitata a presentarlo inserito in questa rassegna il volume della democrazia se vedete il programma è l'unico romanzo non è un caso un libro politico un romanzo a cui viene riconosciuto come dire questo statuto di politicità mi ha fatto molto piacere per due motivi uno lo dico subito e l'altro lo dirò alla fine in questa autogestione dirò alcune cose io che sono Elisabetta Mondello insegno all'università di Roma la sapienza letteratura italiana contemporanea e Giorgia Serughetti una collega studiosa dei processi culturali all'università Milano Bicocca ci siamo un po' distinte diciamo così nel disputarci il che dire allora io parlerò più della parte letteraria di questo libro iniziando vuol dire per chi non conoscesse Maria Rosa Cutrufelli pochissime cose che riguardano la sua biografia è nata a Messina è cresciuta fra la Sicilia e Firenze ha studiato a Bologna si è laureata con Anceschi tutte cose che poi si ritrovano nei materiali narrativi che lei è andato presentando fin da giovanissima ha scritto racconti libri romanzi ha diretto per 12 anni una testata molto importante tutte storie rivista di racconti letture trame di donne non dico naturalmente tutto quello che ha fatto e fa Maria Rosa ma vorrei ricordare alcuni dei suoi titoli perché sono davvero belli La Briganta complice il dubbio un libro bellissimo da cui poi è stato tratto anche un film La Donna che visse per un sogno che è arrivata nella cinquina del premio Strighe Bambini della Ginestra e ora il giudice delle donne senza come dire vorrei togliere spazio a nessuno di noi poi a Maria Rosa farò una domanda anche su questo punto la trama narrativa del giudice delle donne è già essa stessa una dichiarazione del perché questo libro è importante allora è un romanzo che cosa chiediamo a un romanzo a cosa serve un romanzo il romanzo diminuisce le distanze come nasce il romanzo nasce nel settecento le donne in Inghilterra avevano la minima voglia di stare a casa mentre i loro uomini attraversavano gli oceani i mari il romanzo diventava fantastico c'era Gulliver i pigmei e qui abbiamo i nostri pigmei certo che abbiamo i pigmei ma sono delle pigmei sono un gruppo di donne 1906 le quali giocando sui margini della legge detto qui sembra quasi un'ironia giocando sui margini della legge riescono ad avere il titolo di elettrici in un modo provvisorio in un modo precario ma in un momento in cui alle donne non c'è bisogno di ricordarlo al nostro pubblico le donne forse avevano tutto fuorché il voto in realtà non avevano neanche tutto ma certamente non il voto Maria Montessori movimento suffragista comprese che c'era uno spazio lì dove la legge non aveva escluso il fatto che le donne potessero essere iscritte alle liste elettorali lì si apriva uno spazio se non lo esclude allora è consentito questa esclusione non era stata ratificata semplicemente perché era al di là del pensiero possibile l'idea che le donne potessero votare non era effettivamente un fatto come dire politico di apertura ma lì si inserisce questo spezzone di storia molto importante e io vorrei chiedere al pubblico sì certo molti qui hanno studiato anche il fenomeno del voto delle donne del percorso difficile ma è un episodio molto poco conosciuto e per questo è un libro profondamente politico perché diminuisce una distanza una distanza fra il lettore e la lettrice e questo queste dieci donne che erano delle maestre o meglio nella dizione comune maestrine lì dove un diminutivo vezzeggiativo diventa un dispregiativo anche se forse ce lo può insegnare Valeria della Valle istituzionalmente non è così ma maestrina a quel tanto di liquidatorio giovane forse anche vale poco queste dieci maestrine sono delle protagoniste e parlano attraverso alcune donne più presenti più importanti il libro come è strutturato il libro è un romanzo anche qui che si presenta all'apparenza con una struttura relativamente semplice è fatto di diversi parlanti che dicono io Teresa una bambina con un handicap più importante la nostra protagonista la maestrina a cui rivolta il sangue se viene chiamata appunto così che è Alessandra un signore molto simpatico che naturalmente poi corteggerà la nostra maestra cioè Adelmo un giornalista poteva mancare in una descrizione di primo novecento quell'altro soggetto del pensiero intellettuale a cui sarà demandato il compito non solo di diventare classe dirigente in qualche modo ma anche e soprattutto di veicolare il consenso del seminascente fascismo i tre soggetti parlano parlano per poche pagine quindi il libro è snello il libro non fa faticare il lettore ma il libro interroga il lettore perché lo sfida su diversi livelli qual è la storia di questo tentativo di accedere al voto e cioè passare attraverso i vari livelli possibili la commissione del comune possono essere iscritte o no le liste elettorali queste donne e la commissione risponde sì possono essere iscritte o no queste donne quella provinciale di livello superiore risponde sì finché arriviamo finalmente al giudice delle donne corte d'appello un personaggio illuminato di cui poi forse parleremo e incredibilmente dice sì a questo punto o votavano o il livello superiore come dire avrebbe avuto il compito di dire no come andò a finire lo sappiamo tutti perché non mi sembra che abbiamo votato se non ecco 110 anni fa non abbiamo votato ma ho detto abbiamo perché questo è un altro dei livelli di questo libro il primo è il lettore che viene appunto divertito coinvolto in un racconto che è un racconto che ha tutte le caratteristiche del romanzesco il secondo è quello del lettore di un romanzo storico che quindi viene tirato dentro quel vortice che se funziona non sempre funziona spesso il romanzo storico è di una noia mortale oppure va per la tangente in questo caso funziona funziona molto e interroga il lettore sulle sue conoscenze sul riconoscersi in tutti quei dati storici che Maria Rosa Cutrufelli è andata ricostruendo con molta molta attenzione perché qui c'è c'è il giornale l'ordine di Ancona un giornale storico ai suoi tempi il quale poi diventerà il corriere adriatico ci sono le maestre c'è la maestrina maestra che ha frequentato la normale allora il lettore si domanda normale ma allora è Pisa no la normale allora non era la normale di Pisa c'erano tante normali insomma c'è Lucifero l'altro giornale che viene citato ci sono una serie di fatti che vengono citati che interrogano e sfidano il lettore sul piano della competenza storica voglio dire non è un romanzo storico in cui la storia sta lì come uno sfondo un soprammobile che debba legittimare e garantire la trama no in questo caso c'è una profonda conoscenza anche dei documenti dell'epoca e si vedono poi c'è un altro livello che è quello della storia del femminile inteso come moda come fashion come vestiti come abitudini abitudini di consumo l'enciclopedia dei consumi potresti parlare anzi forse ne parlerai meglio tu l'enciclopedia dei consumi è quella cosa per cui quando ci troviamo in una parte ambientata a Roma c'è il caffè Colonna mia nonna se lo sarebbe ricordato c'è ci sono i grandi magazzini quelli che noi ci ricordiamo come rinascente naturalmente si chiamavano i magazzini Bocconi resto c'è Zara c'è la Roma di un tempo che fu c'è ci sono le Marche soprattutto con il treno con i suoi disagi c'è il paesino in cui tutto ciò si svolge Montemarciano ahimè coinvolto anche nei fatti di questa notte perché è immediatamente dietro Falconara quindi Ancona no insomma c'è quell'Italia allora io noi ci siamo dati circa un quarto d'ora per uno che il mio tempo si va esaurendo dirò l'altro motivo per cui sono molto contenta che questa storia entri qui beh ma insomma dopo 110 anni sono entrate qui dentro queste dieci maestre e con loro sono entrate le donne che volevano votare ci hanno messo 110 anni voi direte sì hanno anche votato certo hanno anche votato ma questa storia grazie a questo romanzo oggi viene narrata in queste sale nelle quali insomma non dubito pensassero di poter accedere allora hai fatto una grande cosa e però noi vogliamo sapere perché l'hai fatta cioè lei è una scrittrice che si sperimenta spesso col romanzo storico no e con il periodo l'inizio novecento può essere Torino la rivoluzione francese Portella della Ginessa allora perché è un genere che ti piace perché immediatamente ti fa narrare la storia apre la via al sé all'ideologia perché e poi perché soprattutto questo tema il voto alle donne in un episodio semi sconosciuto della nostra storia rispondi dopo allora l'altra lettrice allora grazie Elisabetta io e Maria Rosa ci siamo incontrate ancora di recente in una iniziativa a Milano organizzata dall'Unione Femminile della Fondazione Kulishoff che si chiamava si chiama perché è una mostra che si è aperta il voto alle donne non solo 70 anni ed è interessante naturalmente lei era invitata a presentare il suo libro è interessante la centralità che questo anno 1906 proprio anche nella ricostruzione di questa vicenda dell'Italia unitaria del suffragismo dell'Italia unitaria nel racconto dei fatti come lì precipitino alcune cose proprio anche grazie a questo proclama di Montessori che è stato ricordato poi si forma il Comitato Nazionale pro suffragio e poi avviene appunto questa cosa per certi versi incredibile che effettivamente non soltanto mi pare nelle Marche ma anche non soltanto Montemarciano e Provinciale Ancona ma anche in altre commissioni provinciali le donne vengono effettivamente iscritte e nella mole dei documenti che poi compongono questo percorso della mostra che c'è adesso a Milano ce ne sono alcuni molto interessanti e una di questi è la risposta che la Corte d'Appello di Firenze naturalmente tutte le altre Corte d'Appello eccetto quella di Ancona di cui stiamo parlando bocciarono l'iscrizione delle donne nelle liste altrimenti non ci sarebbe la storia di cui stiamo parlando e la Corte d'Appello di Firenze motiva l'esclusione scrivendo che in sostanza paventando che dall'elettorato attivo ovviamente sarebbe conseguito immediatamente quello passivo e allora dove saremmo andati a finire e si legge nella sentenza che potrebbe avvenire che una maggioranza di donne venisse a formarsi in Parlamento che coalizzandosi contro il sesso maschile obbligasse il capo dello Stato a scegliere nel suo seno i consiglieri della Corona e dare così al mondo civile il nuovo e bizzarro spettacolo di un governo di donne con quanto prestigio e utilità del nostro paese è facile ognuno immaginarsi ora ovviamente non è un documento che sorprenda nel tempo in cui è stato prodotto però dà il segno dell'originalità invece della sentenza cioè della caratteristica di rottura che ebbe la sentenza del giudice delle donne di Ludovico Mortara che invece per l'appunto sostiene applicando rigorosamente il diritto che appunto non essendoci un'esplicita esclusione delle donne si poteva appunto includerle nelle liste elettorali poi la Cassazione invece come sappiamo ribatte quindi rovesciando la sentenza di Ancona che è così ovvio che le donne siano esclusi dal diritto di voto che non si è sentito il bisogno di dichiarare tale concetto nella formulazione dello statuto albertino è del tutto ovvio e quindi non è necessario mettere nero su bianco l'esclusione e questa cosa della esclusione implicita in qualche modo è un tema che poi percorre anche la storia politica delle donne che secondo me è anche interessante vedere quali residui ha naturalmente non più sul piano dei diritti formali ma su altre forme di riconoscimento della partecipazione politica delle donne che magari potrebbe essere qualcosa di cui discutere anche oggi interessante anche sempre sulla base dei documenti che ho potuto vedere nell'occasione di questa mostra notare appunto come si sa che Mortara non era in realtà un sostenitore diciamo militante del voto alle donne anzi si era espresso in realtà negativamente su questo su questo quesito quando gli fu sottoposto proprio dall'unione femminile un questionario che chiedeva due domande in sostanza è stata ristampata appunto recentemente perciò la possibilità di portarvelo qui si deve riconoscere il diritto di voto amministrativo e politico alle donne A in linea di massima B attualmente in Italia in realtà alla prima domanda come Mortara risponde dipende dai contesti non è possibile dire insomma dare un'unica risposta e alla B cioè attualmente in Italia in realtà risponde di no e lo dice perché in realtà richiama il problema di quella che chiama la schiavitù intellettuale delle donne alla superstizione religiosa ai pregiudizi reazionari che attualmente dice in Italia è assai più estesa e stabilita che non quella degli uomini quindi in realtà c'è forse un cambio di rotta o forse è davvero una prova diciamo del rigore giuridico di Mortara che in realtà posto di fronte poi alla necessità di interpretare la legge a fronte dell'assenza dell'eslusione esplicita poi emette questo tipo di sentenza e su questo magari ecco Maria Rosa un'idea in più se l'è fatta ma sono interessanti di questa inchiesta che appunto poi viene pubblicata nel 1905 quindi un anno prima di fatti di cui stiamo parlando sono interessanti anche le altre risposte anche risposte di donne per esempio mi ero segnata alcune Rina Monti per esempio è scienziata lei dice no quasi tutte queste donne un po' più progressiste alla prima domanda cioè se in linea di massimo le donne devono avere il voto dicono sì però poi se oggi in Italia allora cominciano le risposte diciamo un po' più elaborate nel suo caso lei dice no perché uno le donne stesse non ne sentono la mancanza e quindi c'è quest'idea che non siano preparate nel senso che non hanno elaborato il bisogno di questo e dall'altra parte per l'appunto si paventa il conservatorismo delle donne loro essere troppo ignare troppo influenzabili schiave del pregiudizio in particolare schiave del prete quindi del pregiudizio della superstizione religiosa e quindi sarebbero state una forza al servizio della reazione e questo è ciò che accomuna moltissime di queste risposte similmente per esempio si esprime Amelia Rosselli e poi naturalmente anche molti uomini e di fronte a queste risposte ma insomma le donne sono non adeguate perché sono influenzabili conservatrici giustamente l'unione femminile Silia Maino che fa l'introduzione ironizza e ironizza in un modo che è interessante perché assomiglia un po' a quello che ci siamo costrette a dire quando ci troviamo di fronte a quel screening dettagliatissimo dei curricula delle donne che assumono posizioni diciamo di responsabilità di potere in Italia ciò che non avviene diciamo nello stesso modo per gli uomini lei per esempio dice tutte queste ragioni messe innanzi per negare il diritto di voto alla donna farebbero supporre a chi non conoscesse lo stato di fatto che il diritto di voto concesso all'uomo soltanto sia stato esercitato in modo così perfetto con così grande coscienza giustizia sentimento di responsabilità e con esito così straordinariamente buono dalla società da esigere che tale felicissima situazione non venga compromesso dando il voto alle donne ignoranti suggestionabili senza carattere ed energia capaci niente meno che di lasciarsi influenzare dai fratelli dall'amante dal marito dal prete e di votare per la reazione sgraziatamente abbiamo invece le prove che gli uomini non hanno fatto altro finora che votare quindi influenzate per la reazione eccetera eccetera quindi è chiaramente un tipo di obiezioni al voto alle donne che loro dicono farebbero supporre che gli uomini invece abbiano sempre votato in maniera estremamente consapevole che gli uomini accedendo a questo diritto abbiano chissà quali qualità che mancano alle donne e per l'appunto mi sembra che talvolta ci troviamo tutt'oggi a fare questo tipo di ragionamento ogni volta che si tratta di passare diciamo ai raggi X la capacità di una donna di svolgere un ruolo cosa che quasi che non ha quasi mai l'esatto parallelo nel tipo di esame che si fa dei profili di uomini che ambiscono a ruoli simili e poi ci sono delle cose ironiche simpaticissime come Ada Negri appunto che dice se può andare a votare il mio portinario non so perché non debba andarci io che tutto sommato è la cosa più semplice da dire un po' classista esatto che però in fondo dice ma se io a proposito delle obiezioni sulla competenza l'influenzabilità eccetera e poi ecco quindi siamo in questa c'è tutto questo discorso di doppio pesismo se vogliamo tra le donne e gli uomini poi ci sono altre cose interessanti che in qualche modo si ritrovano anche dentro il libro di Maria Rosa per esempio mi colpisce molto il richiamo forte da parte di queste sostenitrici del voto alle donne alla dimensione del dovere più ancora che di quelle del diritto il dovere di cittadinanza il dovere di assumersi una responsabilità pubblica e quindi più volte parla di per l'appunto chiedono di adempiere a questo dovere e il ruolo lo chiedono a partire dall'essere madre lavoratrice eccetera ma sicuramente il ruolo di madre fa anche da modello per una certa cognizione del dovere della responsabilità del fatto di assumersi un compito chiave nella società e qua c'è un po' quel anche qua si intuisce e si vede insomma nel tessuto di tutti questi discorsi che sono interessanti semplicemente non sono una storica ma per la sia per il tipo di temperie culturali che mostrano sia per i richiami che hanno sul presente si intuisce un po' sia questo inizio di profilarsi dei due approcci quello un po' differenzialista per cui si per cui si valorizza molto la possibilità le possibilità i vantaggi gli avanzamenti che promette l'ingresso delle donne nella politica nazionale a partire dal loro essere donne con tutta una serie di caratteristiche naturalmente qua molte poi sono trattate diciamo in termini classicamente complementari pensiamo per esempio Pellizza da Volpedo scrive in risposta al questionario che sarebbe l'immissione nel corpo elettorale l'ingresso delle donne sarebbe l'immissione di una buona dose di sentimento ad equilibrio di una troppo fredda ragione di un po' d'amore nel regno del calcolo utilitario quindi ovviamente anche la rappresentazione delle donne come soggetti sensibili sentimentali eccetera ovviamente gioca dall'altra parte però abbiamo invece l'egualitarismo diciamo nella sua espressione più pura quella di la risposta di Turati in questo senso l'abbiamo menzionata anche a Milano è la più interessante cioè perché la donna insomma si ha la risposta sul se deve avere diritto di voto la risposta è sì perché perché la donna è un uomo quindi forse sbrigativa forse diciamo non troppo non ha dedicato il tempo necessario alla sua elaborazione ma questo è quanto perché non c'è alcuna differenza ma diciamo evidentemente è la donna che è equiparata all'uomo e non gli uomini e le donne sono uguali quindi ecco dato tutto questo tutto questo materiale che naturalmente è un materiale che Maria Rada ha utilizzato conosce e molto altro ancora è confluito in questo libro beh intanto mi interessa sapere appunto se c'è qualcosa in particolare che hai letto che allora che ti ha colpito che ti ha anche in qualche modo dato un contributo speciale alla costruzione di questo romanzo e poi appunto mi interessa sapere se tu vedi un'eredità in qualche modo di tutto questo dentro il linguaggio i temi i problemi delle battaglie contemporanee che per fortuna non riguardano più il diritto di voto ma che evidentemente ancora hanno molto a che fare con la presenza delle donne dentro le istituzioni rappresentative e nelle posizioni decisionali insomma c'è anche questo tema dell'esclusione implicita che menzionavo prima che in qualche modo gioca ancora un tema sicuramente a cui entrambe siamo interessate quello del linguaggio e ci sono forse anche altri meccanismi implicitamente escludenti che oggi che oggi ci troviamo un po' a dover decostruire Maria Rosa eh vabbè grazie a Elisabetta grazie a Giorgia però io la prima cosa che devo dire riguarda le marche perché le marche io ho imparato ad amarle le conoscevo poco per la verità prima ho imparato ad amarle con questo libro e quindi quello che sta succedendo nelle marche questo terremoto che non finisce mai che si rin... me lo sento dentro moltissimo infatti cerco di contattare via facebook tutte le persone che ho conosciuto che mi sono diventate amiche in questo nel percorso del libro perché insomma è un qualche è un terremoto che terremota anche me anche se sono così distante e quindi insomma la prima cosa è un pensiero è un pensiero per le marche per tutte le amiche e gli amici che vivono che vivono lì che mi hanno accolto e che ho imparato appunto a conoscere e ad amare e poi veniamo al libro va bene allora partirei appunto dalla domanda che mi ha fatto Elisabetta perché proprio questo libro perché questo tema perché questa ambientazione perché questi questi personaggi allora in realtà appunto è difficile capire mentre un saggio è facile dire il perché quando invece si tratta di un romanzo la cosa è molto più complicata perché evidentemente il perché scegli quel tema quei personaggi quell'ambientazione ha molto a che fare con i tuoi fantasmi privati con le tue ossessioni così chiamano diciamo le spinte emotive degli autori e delle autrici le chiamano ossessioni vabbè appunto ha molto a che fare con le ossessioni private e naturalmente il perché non lo sai mai prima però dopo ti interroga anche tu dici ma perché è una domanda che perché non la montessa no appunto no perché io non sono tanto convinta che questo sia un romanzo storico nel senso che parla di storia documentata rigorosamente rigorosamente documentata però non so se lo definirei un romanzo storico proprio perché probabilmente ha a che fare con le mie ossessioni private e da lì che nasce e la mia una delle mie ossessioni è indubbiamente la memoria questo è un romanzo della memoria la memoria è come dice qualcuno oggi più che mai un campo di battaglia un campo di battaglia per l'individuo ma anche per la collettività la perdita di memoria è una tragedia per l'individuo quando quello che ci fa paura e andiamo andando avanti con l'età è la perdita della memoria che significa la perdita di te stesso ma è una tragedia anche per le collettività una collettività senza memoria non esiste non ha valore non ha appunto non ha storia ma la memoria mi pare che sia Bodei a dirlo la memoria è un processo vivo infatti lui dice che ha più si può paragonare più al vino che all'acqua perché appunto ribole insomma è una materia una materia viva e è una materia viva ed è appunto un campo di battaglia dove si scontra si scontra dove i rapporti di potere sono sono chiari sono evidenti e per le donne diciamo per la collettività delle donne la memoria è appunto non solo campo di battaglia ma è un terreno molto fragile perché la memoria delle donne intese sia come individui singole che come genere quindi anche come come collettività non saprei in questo momento quale altra parola usare è un qualcosa di trascurato quindi di trascurabile che soltanto da poco è diventato oggetto di studio ma per una passione politica di alcune più che per un'evoluzione naturale degli studi storici le amiche storiche lo sanno insomma è perché le donne si sono interrogate sulla propria mancanza di memoria storica collettiva che oggi la storia delle donne è meno trascurata e quindi è entrata in questo campo di battaglia per rivendicare il proprio posto per rivendicare la necessità di una memoria di una memoria allora io credo che come donna ho sempre avuto paura del non esistere dell'essere trascurabile da questo punto di vista e come persona naturalmente la perdita della memoria mi fa paura come fa paura a tutti quindi penso che il mio cercare delle storie o essere colpita perché in questo caso questa storia mi è arrivata non in maniera cioè non sono andata io a cercarla mi è arrivata lei per caso perché come ho detto più volte un giorno mentre ero a Senigallia ho visto questa targa sulle mura del comune che diceva in memoria delle prime elettrici italiane e lì c'era qualcosa che non tornava dico come io mi vanto sempre che sono nata insieme al voto alle donne e questa è del 1906 c'è qualcosa che non torna come possono essere le prime elettrici italiane loro e quindi sono andata a documentarmi e quindi è nata per caso però mi ha catturato perché risponde a questa mia esigenza di donna e di individua di di essere di far sentire la mia forza in questo campo di battaglia che è appunto la memoria la memoria storica in particolare io penso che il silenziamento delle donne assomigli molto anche al negazionismo adesso non voglio fare paragoni non non paragonabili però in qualche modo c'è qualcosa di di simile no c'è un annientamento che riguarda proprio le radici le tue le tue radici e quindi da qui il mio questo il questo romanzo è nato da questi fermenti da questo dal vino come appunto direbbe Bodei dal vino della memoria e penso di averti risposto o no per ora va bene invece quello che mi chiedeva Giorgia che cosa di tutto il materiale perché appunto comunque è un romanzo che pretende di raccontare un fatto realmente accaduto quindi ho dovuto studiare cioè non ho dovuto seguire soltanto l'ispirazione come si dice che facciano i miei colleghi e le mie colleghe non ho seguito soltanto l'ispirazione ma mi sono proprio dovuta documentare da lì vedere che cosa toccava l'ispirazione che cosa toccava la mia ispirazione in realtà mi sono ritrovata in un'Italia l'Italia dei primi del novecento abbastanza simile all'Italia in cui viviamo stranamente simile cioè mi sono proprio è stata una cosa che mi ha colpito mi ha colpito era un'Italia che era al tempo stesso piena di speranza e disperata sembra una cosa però io penso che anche oggi viviamo in realtà in un momento in cui dobbiamo sperare e però siamo disperati anche perché è difficile trovare le soluzioni quello era un momento e c'era questa passione dei giovani che non che che andavano contro gli ostacoli enormi a testa bassa e che proprio per riuscire a sperare in qualche modo e sono soprattutto quelli non so c'è nel romanzo ci sono tre voci narranti non a caso secondo me sono tutte e tre giovani uno è una bambina va bene ma gli altri sono una giovane donna e un giovane uomo che fanno due mestieri allora lei è una maestra una maestrina e allora fare la maestra era veramente essere delle pioniere perché come mi hanno fatto notare le mie amiche storiche in realtà sono le prime donne della borghesia piccola o media borghesia che escono di casa per fare un lavoro intellettuale l'altra voce narrante è un giovane uomo che fa anche lì un lavoro che sta diventando che non è il vecchio c'era già il giornalismo ma stava diventando il giornalismo moderno un giornalismo politico nasceva il giornalismo politico e quindi c'erano un appassionamento a questi lavori nuovi che era quasi emozionante appunto io ho letto tanti diari di maestre di quel di quegli anni per documentarmi anche sui sentimenti su come loro raccontavano i loro sentimenti verso questo lavoro e così ho letto tante cose di giornalisti e questa passione che era al tempo stesso consapevole di degli ostacoli ma al tempo stesso questa volontà di non rinunciare alla speranza mi ha molto emozionato mi ha molto colpito e l'altra cosa è gli stereotipi e pregiudizi sulle donne che francamente non sono cambiati quello è oltre che è divertente è talmente noio sono talmente ti viene e dice ma no ancora siamo qui dicevano allora queste cose siamo ancora qui a dirci queste cose che noia però è anche divertente però è bello anche vedere come le donne di allora si battevano contro gli stereotipi non solo è bello vedere come tu hai letto alcune cose che Ersilia Maino questa unionista di Milano appunto ha scritto per presentare questa grande inchiesta sul voto fatta nel 1905 un anno prima degli avvenimenti che io di cui ho narrato che appunto affronta come potremmo affrontare noi gli stereotipi contro cui si trova a dover a dover lottare e io questa battaglia di queste donne dell'unione femminile insomma ho cercato di renderla allora nel mio romanzo c'è l'unione femminile c'è l'inchiesta fatta dall'unione femminile e io ho cercato di far vedere la modernità anche di queste donne degli argomenti che portavano però quello che non ho potuto fare però lo posso dire quando presento il libro perché è una cosa importante quella cosa che fecero le milanesi fu di particolare importanza questa inchiesta di cui tu hai parlato fu particolarmente importante perché fu una delle prime battaglie politiche pubbliche fatte da un'associazione femminile fatta e questa battaglia politica fatta dalle unioniste milanesi ebbe delle conseguenze pratiche perché appunto Giorgia diceva il giudice della copertina Lodovico Mortara che fu un grandissimo costituzionalista forse il padre dei costituzionalisti moderni disse alle unioniste che gli chiedevano ma allora lei favoreva quello contrario lui disse contrario dice sì forse pensandoci ma adesso per carità no no un anno dopo è l'unico giudice in tutta Italia che dice sì allora io mi sono chiesta com'è che in un anno cambia idea così radicalmente diventando l'artefice poi perché appunto le dieci maestre se avessero avuto un no come tutte le altre in tutta Italia perché fu una battaglia nazionale non sarebbero passate alla storia per aver vinto ma lui disse di sì e quindi loro non solo furono delle combattenti ma vinsero pure per pochi mesi fino alla corte di Cassazione però vinsero e allora vabbè mi sono chiesta perché un po' c'era il fatto che Lodovico Mortara era ebreo e infatti lui fu anche divenne divenne ministro della giustizia ma poi appena arrivò Mussolini venne prepensionato fu mandato in prepensionamento quindi il fatto di essere ebreo significa che in realtà loro da 40 anni forse 50 anni cioè gli ebrei avevano avuto i diritti civili e quindi di cittadinanza da poco quindi in qualche modo questa richiesta lui suonava più che ad altri giudici non ebrei era più consonante alla sua esperienza alla sua storia però è anche vero che lui cominciò un carteggio con Ersilia Maino cioè con l'unione femminile cioè queste donne che lo interrogavano lui le prese sul serio gli posero dei problemi quindi fu un atto politico molto importante che fecero queste donne e che ebbe una conseguenza politica e bisogna dargliene atto ora io nel romanzo come dire la drammaturgia come si dice pomposamente ha delle sue necessità delle sue regole quindi non ho forse potuto dare il riconoscimento che invece meritano a tante donne non solo alle dieci maestre ma anche appunto all'unione alle donne dell'unione femminile che sono state un poco artefici di questa vittoria e quindi non sono state indifferenti neanche dopo più di cent'anni nel mio ritrovare questa storia scriverla discuterne con voi quindi diciamo che come vedete come sono i cerchi nell'acqua che si allargano certo questi sono cerchi oramai lontani deboli però insomma non mi sembra una cosa non è da poco neanche perché il discorso sul voto oggi è un discorso molto complicato e molto difficile le donne che lo facevano allora erano l'ersilia Maino a ragione a dire quello che dice appunto nella nella presentare l'inchiesta cioè dice voi dicendo che noi non siamo abbastanza brave abbastanza informate beh in realtà state mettendo avanti i vostri difetti perché noi proprio non c'è non siamo noi a vendere il voto per un piatto di lenticchie lei dice non siamo noi a fare le leggi che danno spazio soltanto a le scuole dei preti che voi dite che sono deleterie per le donne siete voi che l'avete fatto lei aveva ragione a dire tutto questo oggi le cose sono un po' più complicate quelle erano donne innocenti nel senso storico del termine non avevano mai avuto voce pubblica quindi non avevano mai avuto potere pubblico oggi quest'innocenza si è persa e quindi forse è un interrogativo è come dire l'interrogativo è più complicato rispetto a ieri credo di aver parlato fin troppo lascio ecco quindi due no 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 io no mi pare mi pare giusto ecco allora però forse dovete venire qui rispetto a quello che diceva Maria Rossa no volevo soltanto dire che sulla questione del romanzo storico che sono d'accordo con Maria Rosa che sempre un romanzo è identificato in un momento in una situazione perché questo romanzo ha suscitato tanto questa impressione di essere un romanzo storico più di altri anche scritti da Maria Rosa perché secondo me si riferisce proprio a un periodo della storia che noi italiani non conosciamo e cioè il primo novecento che è un periodo che non studiamo a scuola di cui non leggiamo molto eccetera per cui credo che lei abbia suscitato anche delle curiosità particolari e in questo senso diventa più storico di altri e questa è una cosa l'altra cosa che voglio dire è che in realtà questo romanzo mette anche in evidenza per dire l'aspetto letterario sottolinearlo quelle che sono il coraggio delle donne ma anche delle debolezze delle donne questo contrasto è molto interessante perché loro poi non vanno al processo e quindi dimostrano anche dimostrano che la storia aveva agito pesantemente anche sul coraggio di queste stesse donne quindi in questo senso sottolineerei questo aspetto poi c'era un'altra cosa che aveva detto adesso non me la ricordo più quindi non fa niente ah perché io la memoria non ce l'ho mai avuta e quindi già faccio fatica a mettere due parole meraviglia che non ci lo dico io perché il gelato è rimasto qui che non ci sono parlamentari fra i personaggi avete qualche curiosità domanda io volevo dire due cose come lettrice perché questo libro mi è piaciuto molto per l'incanto che crea e di fatto poi mi sono ritrovata a regalarlo in giro a comprarlo per giovani amiche studentesse persone che sanno poco anche del femminismo e che questa questione del voto alle donne la percepiscono come qualcosa di veramente molto antico non conoscendone le battaglie precedenti l'incanto del libro è in tantissime cose diciamo molte sono state dette naturalmente la città e la provincia questo dialogo tra Roma e le Marche che è un dialogo abbastanza speciale io credo proprio per il fatto che le Marche sono state a lungo dentro la sono state parte di Roma in qualche maniera non soltanto politicamente i miei cugini che vivono nelle Marche più vicini più lontani sostengono spesso sono nati a Roma ma sostengo di essere romani c'è questo dialogo tra la provincia e la città che è reso straordinariamente bene altra cosa che ho trovato molto bella e interessante il fatto che ci siano tre voci narranti ma che queste tre voci narranti ci parlino di cose molto distanti tra di loro da un lato non so per esempio penso al rapporto della giovane maestra con sua madre è molto divertente sono le le nonne le madri di tutte noi con tutti i loro le loro ubie le loro le loro tematiche imposte e l'andare da sole e chi vedi e dove stai ma con anche la la chiarezza dell'amore che c'è tra l'una e l'altra il senso di protezione della figlia nei confronti della madre abbastanza e poi la bambina quante cose dice quella bambina quante cose ci dice dell'Italia di allora il tema dell'emigrazione del del lavoro è una specie di miracolo che Maria Rosa fa senza essere appunto senza la pesantezza del discorso ideologico ma con una grazia assolutamente straordinaria perfino nei nomi vi è andato a trovare questo nome di Nardina per me molto familiare che è un nome tipico di certi momenti delle Marche che ho ripensato anche ovviamente non ho potuto non ripensare alle mie nonne entrambe molto lontane diciamo nel tempo è proprio l'epoca delle mie nonne l'una nata nel 98 piuttosto femminista in modo montessoriana di ferro l'altra del 91 cioè l'una del 98 che si è sposata nel 98 cioè ha subito nella sua giovinezza non so pensiamo all'autorizzazione maritale entrambe si sono sposate in epoca ancora di autorizzazione maritale una nel 98 una nel 10 quindi questi due matrimoni queste due nonne così diverse tra di loro una con un'educazione religiosa pesantissima di appunto uscita dal convento a 18 anni per andare sposa con un matrimonio combinato l'altra libertaria montessoriana sposata nel 98 entrambe diciamo hanno portato nella loro vita più o meno consapevolmente queste le tematiche che possiamo leggere in questo in questo libro quindi la cosa bella di questo libro secondo me è la sua leggerezza il fatto che risuona con questa storia di di molti di noi di molte donne che hanno avuto appunto esperienze dai racconti lontani delle delle donne della genealogia familiare e quindi diciamo grazie a Maria Rosa per tutto quello che riesce anche a evocare dentro di noi grazie 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 a tutti voi a tutte voi grazie Elisabetta Mondello e a Giorgia Serughetti e due angeli custodi e va bene lasciamo il posto al prossimo che verrà che verrà e niente continuano ma non ha superato mai quanto però grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Schemi di schemi di schemi. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. verso verso cui, verso cui, Grazie a tutti. 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 propone a tutti. Grazie 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 a tutti.